L'assessore regionale all'economia e al turismo Leonardo Marras è in visita a Fornaci per un incontro con gli amministratori, ma soprattutto i rappresentanti del mondo delle imprese e tanti altri attori economici, per parlare delle nuove misure cofinanziate dalla regione toscana per la competitività delle imprese nell'ambito dei fondi europei FESD 2021-2026. Un incontro che si è svolto presso l'auditorium di KME, promosso in particolare dal consigliere regionale Mario Puppa, vicepresidente Commissione Sviluppo Economico e Rurale della regione, proprio per dare la possibilità ai protagonisti del tessuto produttivo ed istituzionale di conoscere le opportunità per il territorio. Allora, noi oggi viviamo in un momento dove le nostre piccole e medie imprese stanno soffrendo per tante ragioni, costi energetici, aumento dei materiali. La regione toscana, acquisendo le risorse europee, facendo leva soprattutto su questi nuovi strumenti finanziari che oggi andiamo a proporre, può dare una grande mano alla ripresa economica di questo territorio. La regione, per l'assessore regionale Maras, vuole accompagnare le imprese in una fase di necessario investimento dopo questi anni difficili. Siamo qui insieme al consigliere Puppa perché ci sono spazi per innovazione, internazionalizzazione, sostegno agli investimenti produttivi, tutto ciò che può accompagnare l'impresa in una fase di necessario investimento anche nelle aree interne. L'incontro di Fornaci è servito dunque per informare, ascoltare e stimolare le imprese e gli attori economici a presentare progetti da conoscere in anticipo ai nuovi bandi regionali. I primi usciranno già dal mese di agosto.